Ciao, io sono Bulbasauri, ed io sono Squitton, e questo è Pokémon, aspetta un attimo, fermati! E davvero Bulb... Squitton, vuoi interrompermi così oggi? Saranno sempre l'unico di ogni episodio che passa. Ah! Stacca un attimo! No, e ora mi stanno chiamando davvero Bulb... Squitton! Questa è una battuta nuove avanti episodi fa, la sapete, la battuta è una pagina di Facebook. E qual è tu, Bulbasauri? Qual è il mio problema? Eh, ma... Qual è il mio problema? Ho un sacco di problemi! E di quali non so quanti ce ne sono in questo quaderno? Sì, penso che ce ne sono, ma perché ti importa? Non devi farli! E cioè... Aspetta, davvero? Non sei Bulbas, non sei mai stato a scuola! A parte quella volta qui, tu frate in un'accademia militare per rubare la formula segre... E dicevo, ok, ok, avevo voluto di non parlarne mai più. Non ce ne avevano mai più... Ops! E bu, sarà questo un cavo il fatto che non devi fare quei problemi, quindi smettila di essere un stronzo! Oh, hai ragione, squelto. Mi dispiace. Andiamo avanti. Comunque, ragazzi, oggi io abbiamo due ospiti molto speciali per voi. E sono sta... Sono... Ho un rispetto di terza generazione. Il primo è il tuo tipo di programma Go! Dati a tutti i quali sono i miei... Ops! SABLAIREBALET! E c'è che tante ragazze risolve piacere essere qui! E voi, BLAIREBALET, benvenuti in ProLungo! E le talk! E siete stati i primi in mani della non-dipi-la-genzione Stereo-Termico-Go! Come vi fa a sentire questo? Aspetta... Davvero? Ehm... Sì? E c'è ancora gente che ci gioca a quel gioco? Certo! Ma c'è... Se è vero? O questo... È molto quel gioco! E dovevi sapendo? Sono aspetta... No! C'è... Certo! Ci gioca, ma... È ancora uno dei giochi ipercellulari più famosi! C'è... Mi mette nelle caverne! Ehm... Praticamente sì! Io, mio Dio! Ragazzi... Il fatto che siete stati i primi di essere in Toro on Go... L'episodio è ragione per questo episodio! Davvero! Pensavo se... È vero Halloween! Halloween è stato giorni fa! Davvero? Sì! Halloween è stato quattro giorni fa! Ora siamo a novembre! A novembre! Oddio! Non l'avevo capito! Sai che vuol dire? E' burbasaur! Allora sì! Che tra poco uscirà il nuovo Assassin's Creed! Davvero! È vero? Sono l' Assassin's Creed! Ehm... Aspetta, mi avrei già ucciso! Oh! O burbasaur! Però non lo stessi iscritto! Ma... Non c'è... E' presto il Natale! Dio, mi avesso che sia un po' troppo presto per il Natà! Allora, la roba è bianca! Sono lontà lontano! Le cose di camera! Ti-do-di-do-da! Allora, io ho appena inventato quella cazzo! Vieni insieme! Ma sono dei bandelbai! E auguro da tutti! Un'altra è buon Natà! Ah-ho! Ma esiste? Oh, tu è lontano! Ma che cazzo! Ho andato al catturerai tutto il po' comunque vorrai! Oh! 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 Tutte persone grazie meno! Dani non darmi a che catturare la cazzone finirà le flacce di Bulbasaur! Non sono un broso! Invece sì, Bulbasaur! Ah, è un il sotto! Solo un'osservazione! Eh, hanno già... Poi il... Ok... Tutto, ma... Non è vero! Sono fidanzato con un alucario! Ora un alucario! Non capisco! Lo so, perché dovrebbe contraddire questa cosa? Anzi... E l'altro inizio di un spoglio! E... E... Ho capito! Ho già! Avanzi! Vabbè, comunque ragazzi! E non importa cosa! Allora, è un po' strano! Oh... Mi sono qualcosa che... Ho visto che cosa mi avreste! Che lo so un sacco, vonavveno...? Chuchuchuchuchuchuchou... ... ... Di